Una tragedia terrificante. Sono le immagini dei devastanti effetti della terribile esplosione di questa mattina alle 10.25 nella stazione ferroviaria di Bologna. Dopo 32 anni, non solo Bologna non dimentica e non solo da questa piazza una richiesta forte di memoria e di verità, ma soprattutto una richiesta forte di Stato, perché è uno Stato di diritto, è uno Stato in grado di accertare le verità, di colpire i responsabili e di restituire ordinarietà alla vita di persone che l'hanno avuto sconvolta dall'evento drammatico della stazione di Bologna. Per cui il fatto che a 32 anni di distanza ancora ci sia questa forza, questa forza di volontà che contraddistingue Bologna e tutte le città che oggi si uniscono idealmente a Bologna è un fatto che riempie d'orgoglio questa città, questa istituzione, la nostra regione e che aumenta l'impegno finché vengono abbatute le barriere che ancora esistono, il segreto di Stato, l'accesso agli archivi, perché verità venga fatta e nel modo più completo possibile. Grazie a tutti!